Ciao ragazzi, benvenuti nel canale benvenuti nel canale oggi ho preparato la piñata per la partita della mia zon quindi vediamo cosa ho ogni volta i bambini sono molto animati per la piñata e la partita della mia zon perchè ci sono qui ho questo questo è è questo questo è perché si comprava il canale molto non questo è troppo questo è questo è più semplice questo questo è 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 è il è il questo è questo è questo è questo è è questo è questo è questo questo è questo è quindi è questo è questo questo è questo è questo sono questo è Sì, per l'importo preparare tutto per i bambini, per i bambini, ora possiamo metterci l'altro qui per la piñata. Chocolates. Che insi? Cosa con il cioccolate? Cendii. Cendis. Per il cioccolato. La cotta è il cioccolato? Sì, abbiamo già dato il cioccolato. Ora mettere un po' di più di candi e un po' di money quindi sarà una piñata perfetta per la piñata partita con Cocoa senza stress ok ora è pronto PAM 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 COIN! so if you like our video subscribe and watch our streaming because we will do the streaming in the birthday birthday